La firma ancora non c'è, anche se procedono serrate le trattative per la cessione di Nuova Banca Etrugia e delle altre due Good Bank ad UbiBank. Questo è uno dei passaggi chiave del messaggio natalizio dell'amministratore delegato di Nuova Banca Etrugia, Roberto Bertola. Per il closing, dunque, ancora ci vorrà un po' di tempo. Per il closing sicuramente, dopo le feste, ma anche per la firma, direi, che dobbiamo aspettare dopo la firma. Però il closing è un'attività che segue quella della firma, che sarà un momento fondamentale, poi ci sarà il lavoro per arrivare al closing, le autorizzazioni e poi arriveremo al closing. Una banca con tanta voglia di riscatto, dei colleghi che non vedono l'ora di riprendersi il territorio che gli è stato in qualche modo sottratto. E quindi questo credo che sia la molla più forte, più importante che noi vedremo nei prossimi mesi. Ed è una molla, cioè non vedremo gli effetti positivi che siano negli stessi tempi degli effetti negativi che abbiamo visto a novembre, dicembre, gennaio, febbraio dello scorso anno. Sarà più lento, ma sarà un momento molto importante per l'ora e per il territorio. Bertola, ricordando i mesi duri anche delle uova tirate contro le filiali, vuole ancora una volta precisare che la banca è sempre stata dalla parte degli obbligazionisti subordinati. Noi, dai nostri conti, perché noi abbiamo già oltre mille subordinatisti rimborsati, abbiamo avuto oltre 3.600 richieste di documentazione filtrate dalle associazioni consumatori, quindi con i presupposti per arrivare al ristoro, su 4.700 e poi c'è l'arbitrato, perché quelli riguardano… Che da ieri è operativo. Che da ieri è operativo. Riguardano la parte automatismo, diciamo, qui c'è poi anche la parte arbitrato, quindi siamo soddisfatti del percorso, poteva essere più rapido, sicuramente sì e ci avrebbe fatto del bene, perché più in fretta i nostri subordinatisti avessero ottenuto il loro denaro, ottengano il loro denaro, più noi saremo stati più tutelati anche nella nostra attività. Noi compriamo e vendiamo denaro e abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo porti e ce lo tenga.